Bravissimo, subito a coprire l'angolo opposto andando a cercare Moraschini, il problema è che se Goudaitis ha questo tipo di ricezione, Simons non può contenerlo. Questa volta non vuole Clark, pensa al tiro, poi effettivamente lo prende e lo manda anche a bersaglio. Prima tripla, ultimo possesso del quarto, gran palla di Rodriguez per la tripla con cui Brooks fa calare il sipario su un primo quarto dominato. Liga ancora sopra Simons, due ricezioni in post, due canestri per lui. Rischia di cadere fuori dal campo, poi è abbandonato dalla difesa, bell'assist di Clark, timeout Messina. La dirata di Cinciarini che adesso attacca l'area, penetra, scarica Moraschini a chilometri e quaglia il season 9, già 13 per lui. Pensa a Lobb per bene, poi sceglie l'angolo con Clark che sta nobilitando le proprie cifre. ribaltamento di Rodriguez per Moraschini che ha chilometri, 16 con 4 su 5 da 3. Intanto altra tripla per Nedovic. Arresto della squadra, dopo la virata, l'appoggio al tabellone per il JP. La difesa, l'area completamente vuota, ormai tutti stanno pensando al viaggio di ritorno. Bene, con tanto spazio punisce da tre punti. Pensa al tiro, poi cambia idea, di Liga, ancora Burns, stavolta la tripla la prende e la manda a bersaglio. Grazie a tutti.